l'immobiliare americano è in grande crisi e tu potresti dire ma chi se ne frega giusto sono in america perché è importante capire invece che cosa succede al settore immobiliare americano è importante capirlo perché è un settore fortemente anticipatorio perché più o meno impatta per il 17 per cento del prodotto interno lordo di una nazione non solo perché coinvolge chiaramente le nuove costruzioni o le ristrutturazioni ma anche tutto l'indotto pensa agenti immobiliari a costruttori di cucine o chi fa i rivestimenti quindi le ceramiche insomma capire che cosa succede al mercato immobiliare è importantissimo per capire l'evoluzione a livello economico ed è un mercato anticipatorio perché perché è il primo che viene impattato dall'aumento dei tassi di interesse bene ho deciso di condividere con te una presentazione che abbiamo ottenuto qui a modena con gli iscritti al piano finanziario club un contenuto molto tecnico e di grande valore quindi gustiamocelo insieme e ci vediamo alla fine del video non hai il coraggio di aprire non banking perché hai paura di quello che vedrai bene questo si chiama stress finanziario quando non hai il controllo delle tue finanze nel quotidiano e quindi figuriamoci se sei in grado di pianificare le tue finanze per il futuro ma oggi è il tuo giorno fortunato perché abbiamo creato un percorso totalmente gratuito che ti spiegherà come raggiungere il benessere finanziario come poter guardare il tuo banking dicendo è perfetto è in linea con le mie aspettative iscriviti ora è totalmente gratuito trovi il link qui sotto l'obiettivo di oggi è parlare del crollo dell'immobiliare usa l'agonia continua ok ci sono un paio di elementi interessanti che sono un po il proseguo di quel di quel contenuto che abbiamo fatto la settimana il mese scorso allora questo è il più grosso crollo delle quotazioni per quanto riguarda l'immobiliare americano cioè continua è un bagno di sangue mi spiace perché nell'angolo che non vede magari benissimo e quindi crollo verticale delle quotazioni siamo a dei livelli cioè questo è un candelone veramente che è incommentabile ok siamo a livelli da crisi del 2008 già ok quindi con lo si vede da sì dalla variazione di prezzo mese su mese sta andando giù in verticale anzi in realtà sta andando giù più velocemente del 2008 è la riga il 2020 cioè la riga rossa è quello che sta succedendo adesso sta scendendo più velocemente del 2008 perché quel perché iniziamo a ragionare così iniziamo a capire certe logiche direi che sia adesso ah no è dopo che vi chiedo perché adesso sto creando un po d'ansia creiamo il nostro il contesto in realtà lo commenteremo a mio parere non ci sono l'italia messa in condizioni diverse rispetto agli stati uniti e anche gli stati uniti adesso ve lo anticipo sono non ci sono esattamente c'è per certe cose simile al 2008 per altre cose non è simile al 2008 comunque ecco vediamo le dinamiche di quello che succede calano le quotazioni perché calano i prezzi perché c'è un tema di aumento dei tassi come vedremo e quindi affinché avvenga la transazione si devono abbassare i prezzi se no la transazione non avviene cioè quello che succede che all'inizio spariscono i compratori poi dopo e la sparizione dei compratori la vedremo tra poco spariscono i compratori e l'immobile rimane sul gruppone della persona che vuole vendere per un bel po e l'unico modo per vendere è abbassare il prezzo queste dinamiche non è detto che si manifestino su tutte subito adesso per dire ci sono meno compratori in italia però i prezzi tengono però già il fatto che ci siano meno compratori è un segnale esempio ne parlavo ieri mio fratello vive in austria insbruck non c'è un immobile che costi meno di 12 mila euro al metro ok e sì così è un mercato è un mercato incredibile e ecco molti mobili non passavano dalle dalle agenzie immobiliari cioè se li passavano gli sbruckesi tra di loro così dei segni di rallentamento si vedono dal dal fatto che adesso ci sono molti più immobili in vendita sull'immobiliare punto it austriaco ok questo è un segno che se claus lo vendeva a peter senza passare dall'agenzia adesso peter non vuole più comprare e quindi deve metterlo su un annuncio quello non è un gran segnale ok perché vuol dire che domani verosimilmente se non lo vende neanche con immobiliare punto it austriaco deve abbassare i prezzi quindi questi sono meccanismi che dobbiamo capire ok perché perché magari ci permettono di vedere degli scenari futuri che potrebbero manifestarsi tra mesi quindi il fatto il numero di annunci e per quanto rimangono online certi annunci vi accorgerete che c'è della roba non so se monitorato un po il mercato che sta online degli anni dei mesi ma dei mesi ovvio ma degli anni quelli li sono sono transazioni che non ci sono è come nell'immobiliare che c'è il book vuoto presente il book cioè la lista di chi dei compratori e dei venditori con tutte le offerte il tema è spariscono i compratori e si devono abbassare le quotazioni quindi vediamo che già c'è un taglio cioè il 17 per cento listings quindi degli degli annunci ha avuto un crollo delle c'è una riduzione dei valori di vendita in altre parole i costruttori hanno una confidenza sotto le scarpe cioè sta andando giù questo è un po come il pmi chi è che lo purchasing manager index in ambito finanziario ok è la confidenza che hanno i costruttori sull'andamento del mercato ok che è un po come appunto in ambito finanziario il pmi è un indicatore che se sopra 50 vuol dire che c'è ottimismo che i direttori acquisti stanno comprando materie prime per perché vedono ordinativi in crescita pmi sta per purchasing manager index cioè l'indice dei direttori acquisti ok questo è uguale per i costruttori sono infatti è proprio la stessa unità di misura 50 sotto e condizioni sono basse cioè sono insomma non c'è il grande ottimismo ordinativi in calo è un prodotto la casa iniziamo a vederla come questa cosa qui è un prodotto vedrete è un prodotto che si vende anche a a gruppi a lotti lo vedrete tra poco dobbiamo iniziare ad abituarci a ragionare in questi termini sì la casa il mattone sicurezza no per noi è un prodotto ed è un prodotto che deve avere un mercato ok e io devo scegliere anche in quale mercato operare teniamoci le domande dopo ti rispondo a tutto ok quindi vedrete tra i progetti che di cui parleremo in questi giorni ci sono progetti che vanno su fascia bassa e progetti che vanno su fascia media e poi potenzialmente anche su fascia alta compratori diversi perché non tutti reagiscono in modo uguale allo scenario futuro ok qual è il tema si dice che in un verma in un bull market ognuno è un fenomeno ok cioè vuol dire che quando il mercato sale nel finanziario sale tutto anche l'azienda più più triste in assoluto è quando c'è la crisi warren buffett dice quando sale la marea che si vede che sta facendo il bagno nudo è lì che si vede il cambio di tendenza quindi noi dobbiamo non è detto che dobbiamo uscire completamente dal settore immobiliare dobbiamo essere consapevoli che ci sono difficoltà tarare il nostro profilo di rischio e magari lavorare con una clientela che è più resiliente e più resiliente dicevo il 400 mila euro non è la prima casa è la seconda casa quindi non è un mutuo al cento per cento è un mutuo al magari 30 40 50 insomma è un mutuo che non ha bisogno della delibera in sede centrale è una delibera della filiale più facile da finanziare se il mutuo è più piccolo è meno impattato il cliente dall'aumento dei tassi di interesse dobbiamo capire queste dinamiche chi compra quello che io produco come prodotto ok chiusa parentesi però questo è il tema è per noi la casa è un prodotto ok chiaramente va bene qui sempre per creare un po il panorama su cui stiamo andando operare ci sono aziende sul mercato di costruttori sui mercati finanziari chiaramente alla luce di queste situazioni le quotazioni di questi titoli vanno giù in verticale ok cioè c'è proprio si chiama s&p 500 home building index quindi all'interno dell's&p 500 ci sono c'è un indice fatto dei costruttori ok chiaramente questo è correlato col mercato e con questi problemi di prezzo che vediamo perché succede perché sta accadendo questo dai ok no perfetto non è solo un aumento dei tassi si è la violenza dell'aumento dei tassi è una cosa veramente impensabile devo dire che io non ho un animo complottista però c'è da dire ma ragazzi questi qua non hanno fatto niente nel 2021 adesso per per spegnere un fuocherello così grande così stanno versando tre tonnellate d'acqua e la cosa ha degli impatti quindi purtroppo questo è un problema ok i prezzi calano per questa ragione perché è molto difficile acquistare questo è un altro tema chi compra la mia casa lo compra una persona che ragionamenti fa è una persona compra una propria casa in base a al prezzo dell'immobile e a quanto guadagna reddito p su r è uguale al p su e degli mobili della in ambito finanziario prezzo utili quando il prezzo utili è troppo alto poi tende a correggere può reggere può resistere per un po ma prima o poi ritraccerà quando il rapporto prezzo reddito è troppo alto è insostenibile l'acquisto ok quindi questo è quello che si vede in alto vedete l'aumento dei prezzi degli immobili existing single family home la casetta singola è il primo è la prima la seconda è l'aumento dei redditi medium family income il problema è che nell'ultimo periodo vedete qui quanto è salito di più di quanto non si è salito il reddito e i redditi sono aumentati negli stati uniti però se facciamo il rapporto c'è stata un'esplosione adesso il rapporto prezzo reddito è di quattro a livello medio americano è poi ovvio che ci sono zone più ambite zone meno ambite il punto è che si arriva a un certo livello come nel rapporto prezzo utili e dopo si storna perché c'è il ritorno alla media ok ciò vuol dire che quando il prezzo è alto diventa in non è più conveniente fare quel determinato investimento ma si arriva all'estremo posto in cui è estremamente conveniente ok e allora dopo i prezzi recuperano quindi può andare male nei mercati finanziari ma non potrà mai azzerarsi perché a un certo punto torna ad esserci convenienza però la gente da qualche parte deve andare a vivere no se non compra la casa deve andare a vivere da qualche parte quello che hanno notato c'è quello che si nota negli stati uniti e lo notiamo anche noi qua è che comunque se sono aumentati gli affitti ok a dei livelli astronomici poi anche qui a un certo punto la gente ok deve vivere però se non è sostenibile abitare in centro città poi inizia andare si rispolvere il nostro appennino che dove comprare compri una casa con 50.000 euro cioè nel senso a un certo punto se è insostenibile è insostenibile e allora si passa a anche questo è destinato a ritracciare questo è le ore di lavoro per poter acquistare poter vivere in una casa in affitto ore di lavoro cioè si arriva a un livello in cui a mensili ok cioè come calcolato affitto diviso reddito medio e quelle sono le ore da lavorare ogni mese per poter avere un tetto sulla testa 64 che se vuol dire comincia a essere è una settimana e mezzo sono dei numeri per un affitto ok sono dei numeri importanti e quindi a un certo punto però sì sì è una bobo ma ma perché è salito in modo coerente sono saliti i prezzi degli immobili nel 2021 e di conseguenza l'inflazione si è portata su anche gli affitti questo è un altro tema vedete ci deve essere di stimolo per i ragionamenti che faremo anche domani cioè quanto cresce quanto crescono i redditi di un immobile gli affitti e crescono in base all'inflazione cioè noi domani faremo un business plan a dieci anni dovremmo stimare il prezzo in uscita tra dieci anni e dovremmo fare una stima e dovremmo stimare quanto cresce il reddito in quei dieci anni ok cresce in base all'inflazione quindi quanto sarà l'inflazione nei prossimi dieci anni non penso l'otto per cento per dieci però sono tutti i tasselli che stiamo imparando contestualizzate questo caso ma che ci serviranno per fare le stime e i nostri business plan domani ok quindi però anche qui a un certo punto c'è una correzione inevitabile anche gli affitti stanno ritracciando perché è insostenibile a un certo punto la gente inizia andare nei quartieri più brutti inizia a spostarsi andare fuori se è insostenibile è insostenibile quindi da un lato vorremmo aumentare i redditi dei nostri immobili in affitto dall'altra se poi è insostenibile vuoto e quindi sono forze che noi dobbiamo capire come 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 agiscono ok perché succede l'abbiamo detto aumento dei tassi non è l'aumento dei tassi più veloce degli ultimi trent'anni paragonabile secondo solo a quello di volker alla fine degli anni 70 è quasi sicuro che anche novembre salirà di altri 75 punti base questa è la fed però la bcl ha aumentato una annunciato un 0 75 ieri o l'altro ieri questo è l'impatto sui tassi di interesse scusa scusatemi è l'impatto su sul trentennale sul mutuo trentennale americano è salito in verticale e continua a salire cioè un mese fa era al cinque mezzo sei adesso al set perché perché i tassi di interesse portano a riprezzare tutta riprezzare il costo del denaro a qualunque durata cioè l'abbiamo spiegato bene il 16 quando abbiamo spiegato il ruolo delle banche centrali il oi tassi di interesse poi o il tasso variabile che mi applica la banca e poi dal tasso fisso non esiste in natura è il risultato di derivati che vengono fatti perché qualcuno si prende il rischio di dei tassi ok quindi di fatto dal tasso variabile si passa al tasso fisso e qua in mezzo ci sono le stime del mercato su quello che succederà ai tassi e in questo momento il mercato sta stimando che si continuerà con questo aumento dei tassi di interesse da parte della fed ok quindi tutto questo si è riprezzato al rialzo in modo deciso ed è quello che vediamo perché c'è qualcuno che si prende il rischio per il tasso fisso vi è chiaro questo concetto il tasso fisso non esiste per natura cioè noi stiamo c'è un rischio associato al tasso e noi lo stiamo trasferendo a qualcuno con un derivato che fa la banca per noi che noi non vogliamo prenderci il rischio del tasso variabile noi vogliamo il fisso però qualcuno dall'altra parte si prende questo rischio questo prezzo cambia in base alle aspettative di aumento dei tassi di interesse da parte della fed ok qual è l'impatto di tutto ciò che più aumentano i tassi più spariscono i compratori 18 milioni di famiglie in meno che possono comprare immobili con i tassi al 7 per cento quindi spariscono i compratori come vedevamo prima quindi i prezzi si abbassano per questa ragione ve lo dico dopo ma era perché prima volevo creare il contesto e poi dopo spiegarvi le logiche altro tema dobbiamo capire come si finanzia la gente per comprare le nostre case i nostri immobili ok che tipo di tasso hanno in america sulla destra il trentennale fisso è la costante cioè qua è difficile che ti facciano un trentennale fisso ok magari è un 25 quando comincia ad andare oltre 25 è dura lì è la maggior parte del mercato long term fixed ok in altri mercati prendiamo l'inghilterra la metà è tasso variabile queste sono cose che noi dobbiamo abituarci a noi dobbiamo padroneggiare questa roba soprattutto nel trading se io voglio rivenderlo devo parlare con dei mediatori del credito o in banca io devo capire le condizioni del mercato dei mutui come sono esempio ne parlavo ieri con un collaboratore socio immobiliare mi diceva che per quanto ci sia crisi e magari il rallentamento dei compratori però le banche sono piene di soldi in questo momento cioè possono deliberare mutui non c'è una crisi di liquidità come nel 2008 dove hanno chiuso i immobili per noi è fondamentale perché se non finanziano le persone che devono comprare i nostri immobili è un problema ok cioè non solo se questa se gli è salita la rata ma devo anche vedere se c'è disponibilità da parte delle banche per finanziare quindi questo è per farvi capire che sono tasselli che noi dobbiamo tenere sotto controllo e abituarci a parlare quotidianamente con con direttore di filiali e o mediatori creditizi soprattutto se vogliamo fare trading ok il tema chiaramente è che la rata vale stelle con un 7 per cento di tasso di interesse è aumentata per l'acquisto della casa media americana del 160 per cento per questo spariscono i compratori perché diventa insostenibile a un certo punto e quindi crollano le richieste di mutuo quindi questa è un'inchiodata è un'inchiodata se crolla le richieste di mutuo cosa può succedere ai prezzi che non li abbiamo visti ancora tutti potenzialmente le contrazioni di prezzo ok perché uno resiste sei mesi e poi dopo poi dopo dice vabbè devo vendere fino soprattutto se c'è se c'è un peggioramento lo vedremo tra poco dell'occupazione cioè nel senso questa è una questa è l'equivalente di un riprezzamento che c'è stato sull'azionario ai nuovi tassi sull'azionario adesso ci farò anche un video però ne ho fatto in passato su questo tema cioè noi abbiamo visto ci sono due riprezzamenti che dovremmo potenzialmente avere di fronte uno che è la classe di investimento si riprezza i nuovi tassi di interesse due se a questo si somma e questa potenzialmente già stata è già avvenuta 20% ok due però se calano gli utili rapporto prezzo utile cioè se calano gli utili comparto azionario diventa più costoso ok calare gli utili perché magari ci avviciniamo a una recessione quindi affinché questo si mantenga costante deve calare anche il prezzo questo vuol dire che a mio parere dobbiamo aspettarci un altro 20% potenzialmente quindi vediamo la gravità e lo vedremo adesso perché adesso iniziano a uscire le trimestrali però facebook meta è andata giù apple è andata giù quindi è quindi stiamo vedendo adesso i nodi iniziano a venire al pettine quindi se va giù questo verosimilmente va giù anche questo ok è uguale per l'immobiliare prima peggiora è peggiorato per un discorso di tassi di interesse ok però se poi la gente perde il lavoro perché siamo in una recessione potenzialmente c'è un altro gradino ok quindi questo queste sono dinamiche che dobbiamo padroneggiare dobbiamo diventare un po' esperti di macro con l'immobiliare ok cosa succederà ai prezzi quindi qua ci sono delle simulazioni dei dati interessanti sempre per stimolare il ragionamento lo stock questo è un altro tema che dobbiamo avere sotto controllo che sono quanti allora se io prendo tutti gli immobili in vendita diviso le compravendite che ci sono ogni anno questo definisce lo stock scusatemi diviso le compravendite ogni mese quindi immobili in vendita in vendita diviso gli immobili venduti al mese ok questi fa i mesi che servono per liquidare tutto il mercato questo stock quando è alto vuol dire che c'è c'è molta roba sul mercato che i compratori non riescono ad assorbire quando è basso metto un annuncio il giorno dopo un'offerta ok bene questo era arrivato ai minimi nel 2021 cioè anzi e chiaramente se ai minimi vuol dire che ad ogni ad ogni offerta di immobile c'è la fila che non c'è roba sul mercato ci sono tanti compratori pochi immobili e chiaramente c'è un interesse alle stelle e negli stati uniti si vedevano file di 40 persone per per un open house ok questo sta salendo quindi degli immobili rimangono sul mercato per più tempo adesso è quattro mesi lo stock quello che però ha ecco ho anticipato una slide ma prima devo dirvi questo chiaramente più alto è lo stock più bassi sono i prezzi e viceversa cioè c'è una relazione ok e va bene ed è una relazione anche abbastanza forte perché 0 67 di r quadro vuol dire che c'è una relazione abbastanza forte però questi sono cioè non è che dobbiamo diventare esperti però voglio solo farvi capire le dinamiche questo è molto interessante cioè che tutti gli immobili non sono uguali cioè c'è l'usato c'è il nuovo ok ragioniamoci un attimo lo stock dell'usato è ancora ragionevole 3 4 lo stock del nuovo è esploso è esploso ok perché pensiamo agli attori che ci sono i compratori sono gli stessi abbiamo visto le difficoltà che hanno dall'altra parte chi c'è se è nuovo un costruttore se è usato john stewart che vuole vendere quindi possono in condizioni differenti il compratore cioè scusatemi il costruttore ce l'ha sul groppone a un certo punto deve liquidare ok ma john stewart non è detto che debba liquidare potrebbe tenersela lì magari non è la prima cioè se magari vuole cambiare casa perché ha fatto un figlio in più e deve gli serve una camera in più dice vabbè aspetta un attimo sto in questa casa qui ci stringiamo eccetera quindi le ragioni di vendita sono diverse e negli stati uniti ve l'ho detto prima iniziano i venditi costruttori a vendere case allo cioè non so ne vuoi dieci via dieci saldi ok perché devono ce li hanno sul gruppone e vogliono liquidarle ok quindi hanno più immobili di quelli che sono in grado di vendere e lo stocca su sale ok questo che è un investitore ecco queste sono ci sono delle figure negli stati uniti che che noi non abbiamo cioè i grandi investitori immobiliari che hanno 2000 appartamenti che 3000 appartamenti ma tra l'altro non sono figure non sono banche sono anche cioè nel senso non sono fondi o istituzioni finanziarie è anche semplicemente il degli imprenditori come possiamo essere noi che piano piano hanno accumulato guardate su youtube ben malla l'avete mai sentito ben male il canale youtube di immobiliare più bello che esista si è scritto così ben malla con l'h finale questo tipo ai mobili per 300 milioni di dollari una roba simile mezzo miliardo di dollari ea un canale youtube cioè dove fa un programma tipo quelli da real time cioè di max insomma questi programmi qua però se lo fa lui a parte che un personaggio divertentissimo però lui compra 500 unità alla volta ok quindi questi questi investitori hanno ricevuto chiamate dai costruttori dicendo li vuoi 300 appartamenti ti faccio un prezzaccio perché devono uscire perché se mancano i compratori questi hanno troppa roba in pancia e questo non è un gran segnale cioè proprio magazzino che deve essere liquidato nel nostro caso non ci sono queste figure grosse in italia non ci sono ma in germania ci sono cioè in altri mercati ci sono anche in svizzera direi cioè mercati dove c'è molto più affitto ci sono grandi proprietari di immobili va bene la ragione è che appunto gli mancano i compratori ai costruttori mancano i compratori per quelle ragioni che abbiamo visto prima di conseguenza si sta inchiodando il nuovo qual è il problema qual è il problema secondo voi di questa cosa che che con che conseguenze può avere se cala il prezzo del nuovo si è il tema è questo infatti quindi la conseguenza è questa cioè se il prezzo del nuovo scende perché c'è uno stock alto i costruttori devono vendere con come possono non scendere i prezzi dell'usato scenderanno perché io io mario rossi voglio comprare una casa nuova e adesso vedo che l'usato costa arrivo costa magari 3.500 euro al metro a modena scusatemi il nuovo costa 3.500 euro al metro l'usato ne costa 2.500 di usato non sta più in piedi adesso 2.500 compro ristrutturato ristrutturato ok e l'usato non ristrutturato 1.700 si ritara tutto al ribasso quindi i costruttori sono i primi che danno il prezzo ma poi piano piano si abbassa anche il resto quindi certi prezzi quindi attenzione perché noi non tariamoci solo sull'usato di oggi che vediamo là fuori perché i prezzi dell'usato di oggi non scontano ancora il fatto che il costruttore tra due mesi potrebbe abbassare il prezzo e se compri un usato 3.000 euro scusatemi se compri un nuovo a dico una cifra 3.000 euro al metro e non può e deve ritarare certo quindi attenzione a confrontare i prezzi perché sono prezzi fatti da persone in condizioni differenze da attori in condizioni differenti ok quindi il nuovo tara ribasso l'usato però attenzione questi sono fenomeni di breve ma poi li dobbiamo contestualizzare anche fenomeni di medio lungo negli stati uniti la demografia è molto favorevole cosa che non lo è qua vuol dire che i millenials la sono tanti millenials è la mia generazione quindi chi ha tra i 35 e 45 adesso è tutta gente che magari appunto fa il secondo figlio deve prendere la casa un po più grande è in una fase in cui è la generazione più più con più persone negli stati uniti qua no qui siamo meno ok perché la fan più figli e facendo più figli c'è più gente nella mia fase con la mia età che magari deve cambiare casa e prenderla più grande perché la famiglia sta crescendo quindi questo è un altro tema la demografia vi cioè se non capiamo la demografia non compriamo immobili a reddito cioè il calcoletto prendo 5 mila euro e mi costa 100 oggi ma se 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 rende il 5 per cento vuol dire che si ripaga in quanti anni in 20 perfetto in 20 anni quindi io se l'ho finito di pagare in 20 anni quando è che tirerò la riga per dire se ne valsa la pena ai 20 anni dovrò stimare il prezzo ai 20 anni e se non c'è la demografia perché siamo 5 milioni meno in italia tra vent'anni ok non possiamo dimenticare e in certi paesi è già così cioè nel senso qui in emilia ritengo che siamo abbastanza fortunati però poi l'emilia non è tutto uguale l'emilia la romagna ma in certe zone già così quindi attenzione al tema demografia quindi altro concetto che ci portiamo a casa è non si può fare dappertutto sta roba molto più logico farlo in Puglia per dire ok perché lì c'è non c'è non è un tema di demografia ma è un tema di turismo ok cioè dobbiamo capire dove andare a comprare e l'altro tema è l'immigrazione ok negli stati uniti c'è un'immigrazione non entra mica chiunque è un'immigrazione più controllata è un'immigrazione che potenzialmente può spendere di più per una casa c'è un'immigrazione fatta di persone che non è che vanno a fare gli ingegneri la ferrari ok questo non aiuta è un po' diversa dal 2008 perché comunque c'è meno c'è meno inventario di immobili nel 2008 avevano costruito all'inverosimile e c'è una quantità di immobili sul mercato esagerata tutto sommato in questo ciclo si vede che ecco l'inventario di case single family homes quindi la casetta indipendente americana quella dei film tipo mamma ho perso l'aereo è la più bassa degli ultimi 40 anni quindi comunque non c'è una anzi per quanto ci sia una bolla immobiliare che è fatta per lo più per i prezzi e il riprezzamento dai tassi di interesse non c'è una bolla di eccesso di offerta di immobili cioè comunque c'è gente che ne ha bisogno dell'immobile questo è il tema la percepite sta sfumatura cioè i compratori sono sia quelli che vogliono cambiare casa ma sono anche quelli che devono avere un tetto sulla testa per andare a viverci quindi i compratori quelli che vogliono cambiare casa possono anche sparire temporaneamente perché le condizioni sono sfavorevoli ma la demografia e il numero di case sul mercato fa sì che comunque ci sia gente che ha bisogno di una casa magari non la compra oggi ma la comprerà domani ok però attenzione come dicevo prima potremmo non aver visto tutto perché non vediamo gli impatti della recessione nei prezzi cioè oggi siamo ancora a livelli occupazionali altissimi uguale qua quindi attenzione cioè questo è sulla sinistra è il tasso di disoccupazione è ai minimi il tasso di disoccupazione l'abbiamo visto anche il 16 di settembre è uno degli ultimi indicatori che corregge cioè prima prima si abbassano gli utili cioè le aziende guadagnano meno in una recessione si abbassano gli utili poi un certo punto dicono e qui dobbiamo tagliare la forza lavoro c'è meno lavoro e licenza quindi l'occupazione è uno degli ultimi indicatori quindi se io lo guardo oggi dico se ritorniamo adesso è 3 94 3 59 il tasso di 350 il tasso di disoccupazione il più basso degli ultimi 70 anni 60 anni una roba simile se aumenta ci saranno più persone che sono in difficoltà a comprare cioè se perdono il lavoro l'ultima cosa che vogliono a comprare a casa ok questo non lo vedo ancora lo vedrò a recessione più avanzata però è un come dire un cinguettio che devo avere ben ben chiaro potremmo non aver visto tutto ok ultimo tema questo era direi l'ultimo il tema della convenienza con altre classi di investimento oggi una roba che rende il 5 quando ok non dico un btp che rende il 4 e mezzo ma un titolo tedesco rende il 2 e mezzo a 10 anni io non so se lo faccio ok non so se lo faccio quindi c'è il tema della convenienza con altre classi di investimento e questo si chiama spread chi ne ha mai sentito parlare dello spread si però non è lo spread alla spread vuol dire differenza in generale però vuol dire tante cose questo è lo spread tra si tra classi di investimento ok quindi tra un titolo di scusatemi tra il rendimento dell'immobile cap rate detto è un titolo di stato a 10 anni quando che ve lo scrivo meglio è chiaro che cosa vuole cosa serve questa cosa è il rendimento dell'immobile meno un titolo di stato a 10 anni se scusami certo rendimento percentuale di un titolo di stato esempio questo rende il 5 per cento meno questo che rende il 2 ok io uno spread di 3 e tanto è poco non è ok il titolo sono numeri inventati ok l'immobile rende il 5 questo titolo di stato 10 anni non titolo di stato italiano ma vicino alla tripla cioè detto anche risk free rischio 0 se rende il 2 io ho uno spread di 3 cioè ho un rendimento in più rispetto a un titolo di stato strassicuro di 3 questo varia che infatti ci sono stati dei casi in cui nel 2006 2007 era 0 5 vuol dire che era piccolissimo vuol dire che questo era molto più molto vicino a questo e quindi c'era gente che si prendeva rischio sull'immobiliare che non era giustificato perché ci deve essere uno spread come dicevamo prima è il liquido costi di transazione alti non è frazionabile non ho diversificazione ognuno si tara non è scalabile e ognuno lo tara quanto vuole ma noi siamo qui che vogliamo capire come investire nei mobili senza avere preconcetti tenendo la mente aperta e capendo che meglio non perdere soldi con gli immobili che guadagnare meno ok e quindi sappiamo usare anche il finanziario quando questo si alza io 5 non lo voglio più magari se questo adesso è 4 io una roba che rende il 5 magari non lo voglio più io voglio sempre avere tre punti oltre di spread deve pagare il rischio che mi prendo ok no e ognuno lo tara il tema è non può essere zero non può essere l'uno a mio parere quando comincio io il business plan che vediamo domani l'ho fatto nel 2018 rendeva un titolo di stato nel 2018 adesso non mi ricordo lamenti che fosse un il tripla rendeva l'un per cento un bt un bund e quel progetto li faceva il 9 fa il 9 non faceva fa il 9 un bello spread ottimo fino oggi non lo rifarei perché questo oggi non lo so ok perché questo adesso è diventato no lo farei anche oggi ok però è per far capire che c'era uno spread enorme ampiamente giustificato il rischio e lo sbattimento di starci dietro questo deve ripagare anche il mio lavoro è perché nell'immobiliare c'è del lavoro fisico cioè o mio o di qualcuno che ci sta dietro e sì sì tutte le componenti di rischio è certo questo è per la rendita quindi i rischi sono diversi rispetto al trading perché non lo vendo non lo devo rivendere me lo tengo però i rischi sono legati ad esempio all'incertezza del valore futuro assolutamente certo tutte le componenti di rischio che ho detto prima ok quindi tiriamo un po di conclusioni che vedete che abbiamo toccato tanti elementi che ci aiutano a capire poi meglio quello che approfondiremo in questi giorni e tutte le variabili che dobbiamo mettere all'interno di business plan e questo è il quello che abbiamo visto prima house price to income ratio quindi rapporto prezzo reddito e ci sono paesi in cui reddito paesi in cui è molto alto 125 per cento circa scusatemi no questa è la crescita si 2015 è la crescita dal 2015 il 100 è il 2015 come prezzi quindi c'è stato tutto quello che sopra il 100 ha visto una crescita dei prezzi e quindi gli stati uniti hanno avuto una crescita molto elevata ma l'italia non ha visto questa crescita cioè siamo pochi no anzi leggermente sotto ok adesso questi sono dati ripeto da questo è il la banca non so come sia l'acronimo non mi ricordo bank for international settlements e quindi insomma la sta correggendo tanto come vediamo come abbiamo visto perché comunque c'è stata una forte crescita qui correggerà a mio parere magari con una minore minori transazioni correggerà l'usato con i temi dell'energia correggerà l'usato che non è mai stato ristrutturato e magari anche un po nuovo però non scenderà in modo a mio parere stima nostra non scenderà in modo lineare tutto ok perché noi qua abbiamo degli immobili che sono indecenti cioè a livello sismico indecenti a livello energetico dei colabrodo quindi quella roba lì a mio parere adesso sarà molto difficile venderla e come dicevamo un po a settembre noi siamo stati coerenti avevamo detto che avremmo puntato su operazioni di efficientamento energetico l'ultimo progetto è un locale commerciale con tre uffici che più o meno è fatto così ci sono tre unità noi valutiamo se riusciamo a sopraelevare e faremo o tre o quattro villetta schiera così con cappotto conversione da commerciale a residenziale la zona è ottima ok e diamo valore diamo valore sia perché c'è un cambio di un cambio e poi perché c'è un cappotto e questo verrà dovrebbe arrivare in classe a più o meno non è un nuovo nuovo che è un a4 però è una insomma quindi comunque commercialmente è molto appetibile e quanti ce n'è di questi sul mercato non ce n'è troppi è questa roba che puntiamo a vendere sulla carta ok quindi finanziariamente molto meglio come dicevo prima quello che vediamo sull'immobiliare americano che qua non c'è cioè il riprezzamento da nuovi tassi non è così drastico qui anche perché siamo ancora molto indietro rispetto a loro come aumento dei tassi bene la sembra sembriamo avervi sembra che ci troviamo di fronte appunto alla prima parte di un possibile rallentamento non vediamo una bolla da eccesso di offerta come invece c'era stato nel 2008 che c'erano avete visto la grande scommessa c'erano interi quartieri vuoti perché comunque lì la demografia c'è allo stesso tempo non vediamo però l'effetto di una recessione questo si manifesterà quindi dobbiamo stare attenti il contesto quindi è cioè è pericoloso dobbiamo stare attenti perché ci troviamo l'avete visto questo l'ho già presentato in un video questo questo meme qua cioè la fed si trova di fronte a un bivio e tutte le banche centrali o aumento i tassi faccio le porte di recessione l'economia per contenere l'inflazione o dall'altra parte non faccio niente e poi c'è un'iperinflazione e poi ci servono le carriole per andare a comprare il pane quindi questo è un scenario molto incerto quindi stiamo non possiamo trascurarlo ok quindi questo era l'obiettivo era farvi una panoramica poi oggi vedremo dei progetti quindi comunque noi non è che abbiamo questo sempre come sottofondo costante come avvertimento costante però siamo lì che le cose le facciamo e la settimana prossima andiamo a vedere delle altre operazioni e poi vedremo anche il come facciamo a gestire finanziariamente sta cosa l'obiettivo è avere sempre del capitale che gira per fare per far lavorare le imprese così non ti fanno le sorprese io spero che passi il messaggio che non possiamo molti venditori di corsi di trading immobiliari ci dicono che facciamo un'operazione all'anno e siamo felici no facciamo rimaniamo sul finanziario ok chiudo dicendo che l'obiettivo di questi due giorni è finanziario e se ci sono le occasioni come dire le condizioni giuste immobiliare ma il finanziario deve essere deve andare avanti e quindi questa è la situazione non è uno scenario particolarmente incoraggiante però è normale che dopo grandi crescite dei prezzi ci siano grandi contrazioni delle quotazioni quindi vedremo che cosa succederà a questo punto come al solito qui in alto puoi scaricare le slide di questa presentazione e fare approfondimenti se ti piace l'analisi finanziaria di questi dati oppure qui in basso ti consigliamo un video per capire quali sono le politiche che sta portando avanti la fed e la bce relativamente proprio all'aumento dei tassi di interesse se questo video ti ha dato valore clicca mi piace iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video ciao